E' la ragazzi sono i salvi e oggi vi propongo questo commentary Allora il titolo è un giorno da camper perchè fino a metà partita campererò in questo stanzino qua Si insomma non avevo tanta voglia di rasciare mi ero un po' stufato e allora ho pensato di farmi una partita un po' da camper Certo non quelli che stanno tutta la partita dietro una scala stanno tutto il tempo fermi lì ad aspettare che qualcuno salga o passi davanti una porta Io insomma mi muoverò un po' giù dalle scale guardando da quelle finestre insomma un po' mi muoverò non tanto Insomma però è un po' era una camperata questa Qui sto usando il commando con mirino laser e caricatore aumentato Si E mimetica tigrata No gasbow non mi ricordo come si chiama questa roba qua Vabbè E poi sto usando come bonus ho sciacallo pro, signore della guerra pro e ninja pro Quindi ho la granata e le due stordenti Allora beh intanto volevo dire che prima di questa partita avevo fatto un team di match in Anoi Bellissimo, tutto rasciando, ho chiamato l'elicottero, supporto, tutto così Fantastico, score 31-3 o 31-4 adesso non ricordo Vado nella modetta cinema, non c'è E non l'ho trovato Allora insomma mi sono un po' girate e ho fatto sta camperata qua E purtroppo perché era proprio bellissima quella partita E beh peccato Allora qua No vabbè intanto volevo dire che nello scorso video avevo chiesto di cosa volete sentire nei miei commentari E allora molti mi hanno detto Cioè molti insomma Qualcuno Mi ha risposto Allora o parlare delle armi Parlare dei bonus Delle mappe Allora dato che questo qui insomma è un video un po' particolare Infatti quando vedrete dei video con titoli diversi Tipo questo qua Una giornata da camper Insomma Non sono video in cui saranno commentari normali Quindi parlerò Tipo in questo parlo di quello che mi viene in mente E invece dai prossimi Sempre se non avranno un titolo mongolo E parlerò Nel prossimo video Credo proprio di parlare dei bonus E tutti i nabbi che usano Last Stand Che guarda io Lì andrei a casa loro a dargli pugnalate In testa Ma seriamente perché non ne posso più di tutti quei nabbi lì con Last Stand Veramente E dopo Oppure parlerò anche assieme ai bonus Anche delle armi Vedrò E poi farò credo molti video Parlando delle mappe E di alcune strategie E così Poi ho visto una richiesta di un utente Di fare un gameplay in Nuketown E allora lo farò Adesso vedo Anche perché ho oggi Oggi 29 dicembre Ho appena attivato il secondo prestigio Quindi le armi che ho all'inizio Cioè MP5K Insomma Un po' una schifezza Non è che riesci a fare degli score Da pro E poi neanche avendo ancora Le serie di uccisioni appropriate Cioè ok A7 c'è il Rio Anche tutte le partite Però non ho Il supporto aereo Tipo questo qua O elicottero Adesso non mi ricordo come si chiama Questo qui a 9 Quindi Non è che Eh sì questi due qua Guarda Quando li ho visti Sono messo solo a ridere Cioè non se ne erano neanche accorti Che io Che O se ne erano accorti Ma avevamo fatto apposta Che ne so Comunque Dicevamo E Ah ecco ricordo a tutti Di iscrivervi al mio secondo canale Perché Non so se avete Chi è iscritto Ha potuto vedere il giorno prima L'anteprima del mio montaggio Ha visto i primi minuti E farò così Ad esempio Nel mio primo canale In questo Tipo caricherò E Magari Un trailer di un montaggio E Magari Dopo carico Sul mio secondo canale L'anteprima Sempre registrata con la webcam Quindi non una qualità Alta E Anteprima I primi minuti del montaggio Tanto per farvi vedere Dopo qualche giorno O il giorno dopo Carico il vero montaggio Sul Sul mio vero canale Ecco qua mi stavano accusando di cheat Mi sembra Può essere Sì vabbè Adesso c'è che roba Cioè uno Adesso non puoi neanche fare Uno score positivo Tipo stavo facendo 20-0 Prima Cioè ti danno del cheater E vabbè scusa Cioè l'elicottero Non fai kill Ma vabbè comunque Chiusa parentesi E quindi Vi consiglio di iscrivervi al mio secondo canale Per vedere in anteprima Cose O il prossimo video che farò Sarà un video sulle FAC Cioè non è una Frequent Answer Question Ma una roba del genere Insomma in inglese Comunque le domande frequenti Le domande che Ricevo più frequentemente Darò tutte le risposte E poi se dovrete fare altre domande Le scrivete in un commento Sotto al video E io in un prossimo video Secondo FAC2 E risponderò a tutte le vostre domande Va bene dai Per oggi è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao